eccoci qua siamo di nuovo in onda 8 dicembre 2012 la tempesta rivolta fra quattro giorni c'è la fine del mondo c'è chi ha deciso di fregare i maia prendendosi un anno sabbatico e chi invece ha deciso di scrivere testamento vero appino? non si sa mai in effetti anche perché il 23 dicembre è il mio compleanno e allora hai detto in anticipo faccio tipo la lista dei regali esattamente allora fine febbraio e primi di marzo appunto uscirà precisamente il 5 marzo il 5 marzo uscirà il tuo primo disco solista che è testamento ma non lo chiamare solista che è brutto che fra l'altro non sei neanche proprio solo solo no per niente sono accerchiato da brutti ceffi un'altra volta sempre peggio è assolutamente un marchio di fabbrica cioè franz del teatro e anche giulio in realtà giulio è tutto nato dal fatto che io è una vita che volevo fare un lavoro da solo nel senso che partivo dalla stesura delle canzoni che quello lo faccio anche con gli zen fino anche all'arrangiamento finale cosa che invece giustamente con gli zen non accade solo che gli zen sono la priorità della mia vita perché una band così non ti capiterà mai più perché è la mia band dal 94 quindi una vita è la mia vita e abbiamo sempre lavorato tantissimo non c'è mai stato il tempo di farlo invece ce l'abbiamo fatta avere un anno di pausa perché comunque noi dal 2004 che facciamo 100 concerti l'anno quindi sono una bella ammazzata e quindi nulla o quest'anno o mai più perché è l'unico anno in cui gli zen saranno fermi e con giulio che già ci conosciamo da una vita sarà spesso detto di fare qualcosa insieme e anche lui giustamente occupato col teatro un dimensional man prima non aveva mai trovato il tempo quest'anno tutto è tornato alla perfezione e quindi quando ho saputo che anche giulio era fermo ho detto no lo facciamo insieme o Roma e più e quando poi è venuto fuori che anche il teatro non aveva solato ho detto allora cazzo facciamo tutti insieme c'è proprio l'allineamento dei pianeti incredibile a meno che appunto e Maya non abbiano ragione ma c'è un sito della NASA il sito della NASA ha aperto le frequently asked questions sul fatto che non finirà il mondo no assolutamente allora il suo testamento è scritto per niente ma fra l'altro cosa è scritto in questo testamento? in realtà il testamento è proprio perché si parla di famiglia non azzarderei la parola concept perché è una parola che è spaventata e poi spaventa tanto anche me però diciamo che appunto essendo un disco fatto a nome mio tendo a parlare ancora di più di quello che già facevo con gli zen della mia famiglia o di esperienze a me vicinissime ecco guarda e quindi mi sembrava naturale il fatto che una cosa molto familiare è il testamento ma non tanto per il fatto che uno è morto ma quanto per ritrovarsi a doversi dividere quello che in vita di un proprio parente è rimasto ed è molto al centro del disco questo perché c'è effettivamente la famiglia intesa in senso proprio più aperto quindi da quella che ti scegli dagli amici alle conoscenze a quella che ti tocca che sono i parenti o anche quella che ti tocca al lavoro comunque la socialità e soprattutto vabbè insomma poi lo sentirete è inutile che ve lo spiego siamo curiosi quindi ti chiedo ma anch'io in realtà perché abbiamo 12 pezzi provinati e finiti ma in realtà entriamo in studio a gennaio sarà il disco registrato e uscito più veloce cioè che farà la registrazione e l'uscita più veloce del mondo perché appunto Zen Circus e Teatro degli Orrori sono fino al 31 dicembre cioè fino a lavorare quindi insomma appena finiamo si comincia però insomma i pezzi che abbiamo provinato siamo contentissimi sarà un disco lampo ma forse anche proprio per la velocità molto intenso la scrittura dei pezzi ha preso alcuni anche sette anni un lungo travaglio sarà il lampo registrarlo ma scriverlo è stato lunghissimo perfetto tra poco ricominceranno i concerti qui a Rivolta, La Tempesta quindi Andrea, anzi Appino, ti saluto ci vediamo dall'avvocato ci vediamo dall'avvocato, spero di no dovremo firmare il testamento e ti vedremo dall'alto del palco anche da sotto il palco e tu ci vedrai dall'alto del palco ma io fondamentalmente essendo la prima volta dopo 14 anni che sono con qualcun altro mi cagherò addosso mostruosamente diciamo le cose come stanno ma sei in mezzo ad amici dai cosa vuoi di più bravi numero uno numero uno te lo giuro grazie mille a presto ciao a tutti buona